ciao a tutti sono Alessandra eccomi qua allora oggi come promesso comincio una serie di video che riguardano i nostri amici a quattro zampe allora oggi di cosa voglio parlarvi vi voglio parlare di degli alimenti che sono altamente tossici per i nostri amici a quattro zampe i nostri amici che fanno parte delle nostre famiglie allora ve ne dirò 10 15 mi sono fatta l'elenco in modo tale da non da non da non dimenticarmene neanche una e voglio essere chiara questi alimenti sono alimenti che devono scomparire dalla faccia della terra per quanto riguarda i vostri animali sono altamente tossici quindi quelli che vi andrò a disporre sono alimenti che loro non dovranno mai assumere non dateglieli per per la loro salute sono cose anche sono alimenti che magari si dice ma sì un pezzettino ma sì non gli fa niente no su per quanto riguarda l'alimentazione degli animali mi raccomando cercate in tutti i modi di essere il più possibile i ligi non fatevi addolcire o fatevi conquistare dagli occhioni dolci che vi fanno che so che fanno gli occhioni dolci so che è difficile resistere ma su questi alimenti dovete tassativamente essere molto accorti e molto attenti a non darglieli allora veniamo a questi alimenti allora il primo forse lo sapete l'alcol alcune cose ovviamente possono essere accidentali per loro nel senso che possono assumerli in maniera accidentale perché magari cadono per terra o li lasciamo lì sul tavolo e quindi per loro è normale anche andar lì e mangiare tutto è il loro istinto allora l'alcol e il caffè l'alcol e il caffè sono molto tossici questo perché perché portano e porta per loro un'elevata aritmia cardiaca e quindi un'alterazione del ritmo cardiaco che è pericolosissima per loro accidentalmente state attenti anche al tabacco al tabacco perché con questa sempre a livello cardiaco lo sapete benissimo che è pericolosissima porta alla morte e le uova crude le uova crude non dategliele potete dare le uova le uova cotte ma non le uova crude questo perché primo salmonella lo sappiamo che è pericolosa per noi ma è anche pericolosa per loro e inoltre l'albume produce la biota cioè alla biotamina la biotamina non è altro che una vitamina b che che è coinvolta nella crescita del pelo e di un buon pelo quindi tende ad avere un ad averli a procurargli problemi di pelo poi le ossa le ossa quando diciamo ma si nel momento in cui ci manca ci sono i resti dalla tavola delle ossa non diamo non diamo i resti delle ossa questo perché perché le piccole ossa possano possono non solo conficcare conficarle in gola nel all'animale ma anche perforare lo stomaco è pericolosissimo i semi e i noccioli i semi noccioli delle albicocche delle pesche quando hanno il malo dentro il nocciolo ha del cianuro il cianuro è altamente tossico e può portare alla morte dell'animale è ovvio che non è un cianuro a livello però è altamente tossico per loro le noci e quindi anche la frutta secca non va bene perché comunque provoca delle istruzioni intestinali che possono provocare anche delle convulsioni una della frutta che non va data abbiamo l'avocado l'avocado che sia il nocciolo anche se è grande però anche come frutto è tossico e l'uva e l'uva sultanina invece l'uva vediamo se era l'uva e l'uva sultanina provoca dei dolori addominali fortissimi e può provocare anche un'insufficienza renale per quanto riguarda inoltre il lievito i lieviti e quindi pezzi di pane pezzi di pizza non dateglieli questo perché primo le farine non fanno bene però i lieviti può provoca dei gas a livello intestinale e può provocare anche una rottura dello stomaco la rottura dello stomaco e dell'intestino di conseguenza inoltre c'è anche di solido dentro il lievito c'è anche l'etanolo che può provocare l'avvelenamento da alcol i pomodori e i germogli anche di patate sono solanacee le solanacee già non fanno bene per noi perché fondamentalmente le solanacee non fanno bene neanche per le perché hanno degli alimenti tossici per anche per l'essere umano per l'animale non va bene questo perché perché hanno la solanina la solanina che i cani non mettono i cani gli animali anche i gatti non metabolizzano e questo portano ad avere problemi nell'apparato digerente e quindi ad avere anche irriquitezza ad avere tachicardia quindi non dateglielo per quanto riguarda inoltre mi raccomando anche frutta no frutta scusate ortaggi come i cavoli cipolla aglio di solito non danno degli effetti immediati ma li danno dopo 1-4 giorni possono provocare quindi nausea vomito fino ad effetti molto più gravi merendine biscotti out completamente questo perché perché porta il glucosio a livelli eccessivi e può provocare alla lunga anche fargli comparire il diabete mellito no caramelle le caramelle caramelle dolciumi quindi questo perché perché le caramelle contendono l'oxilitolo l'oxilitolo porta ad entrare in a farlo entrare diciamo che l'oxilitolo entra nel sistema nervoso e quindi provoca a spasmi e a convulsioni il sale quando diamo da mangiare per esempio dei cereali magari allora innanzitutto pasta no non si è mai visto che un cane si metta lì o anche in natura si metta lì a farsi la pasta asciutta lo sappiamo cereali o comunque anche del riso vanno bene ma devono essere completamente senza sale perché il sale porta ad attacchi di ad attacchi epilettici quindi il sale quindi no insaccati mi raccomando non dategli la fettina di prosciutto non dategli la salsiccia non dategli la fettina di no no le cose devono essere la carne che gli si dà la si deve dare in maniera senza sale vanno bene gli organi vanno bene l'interiore vanno bene determinati tipi di alghe vanno bene determinati tipi di di verdura che potete cucinare anche voi va benissimo oppure ci sono degli alimenti ci sono delle case molto buone in commercio e se volete mi iscrivete e vi parlo io e vi consiglio anch'io di un'alimentazione sana per i nostri amici e inoltre l'ultimo forse il più conosciuto alimento altamente tossico è il cacao e il cioccolato questo perché perché il cioccolato contiene la teobramina la teobramina che porta quindi che porta ad una sorta di tossicità e alla lunga porta a ad avere anche emorragie emorragie convulsioni spasmi quindi lasciate stare lasciate stare allora mi pare di avervi detto tutto mi pare di avervi detto quasi tutti ho letto perché non volevo assolutamente dimenticarmi di nessun nessun alimento ne ho dati una quindicina mi raccomando cercate di seguire i miei i miei consigli per qualsiasi cosa chiedetemi per qualsiasi cosa sono qui a vostra disposizione scrivetemi e non faccio altro che rispondervi ad essere ed essere con voi e per qualsiasi supporto e niente questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao